Sesta corsa premio Jackson, nuovamente agli ordini dello starter, gli undici concorrenti di questa corsa di inseguimento sul Miglio Segnale che sembra ora convalidato l'errore di Oasis Man e anche per Nel Sole E va a condurre Pietro il Grande inseguito da Obladicar, quindi c'è Nijambo Che precede Let Me Coach LF e ancora Orse Aurelarele che è stato il più veloce tra i penalizzati Obladicar si è fatto posto nella scena di Pietro il Grande che sullo slancio completa il quarto iniziale in 37 Buon parziale considerando che l'avvio era da fermo e ora cerca la fuga in avanti Pietro il Grande 37,6 per il mezzo giro, seguito da Obladicar, Nijambo, poi Let Me Coach LF, New Open scomoda Posizione all'esterno, Orse Aurelarele che è in fuori, radice del nord, poi ancora One Best Thor che lascia in coda al gruppo Pari De Mask Rallentamento ora da parte di Pietro il Grande che va a completare il mezzo miglio iniziale in 1,2 Si viaggia sul piede dell'1,17,5 con Obladicar che sposta dalla scia di Pietro il Grande, va ad impegnarlo Guadagna una posizione alla corda Let Me Coach LF che ha all'esterno Nijambo Poi Orse Aurelarele che ha in fuori New Open, serie di pariglie Quando mancano ormai i 550 metri alla conclusione, Pietro il Grande si mantiene in vantaggio Respingendo Obladicar al cui interno c'è Let Me Coach LF Poi Nijambo nella scia di Obladicar, lo scatto in terza ruota da parte di Radice del Nord Che non trova l'opposizione di Nijambo e cerca di andare sulla coppia di testa Poi lungo la corda c'è Orse Aurelare, retta d'arrivo con Radice del Nord Lanciata all'inseguimento di Pietro il Grande, lungo la corda cerca spazio Let Me Coach LF E' in vantaggio ancora a Pietro il Grande ma Radice del Nord lo attacca Poi c'è Let Me Coach LF, quindi all'arco di tutti i One Best Tor Lotta a Radice del Nord che sta passando su Pietro il Grande Lungo la corda c'è Varco per Orse Aurelare, sul palo è netta Radice del Nord nei confronti di Pietro il Grande Lungo la corda, filtra, Orse Aurelare dovrebbe essere terzo nei confronti di Nijambo 11.49 potrebbe essere l'arrivo ufficioso della sesta di Capannelle 2.1 secco sul mio cronometro, quindi 1.15.7 è la media considerata allo start Molto meno ovviamente per Radice del Nord che si è espressa in due minuti scarsi Quindi una probabile media di 1.14.8 per l'allieva di Lucio Becchetti Il numero 11 al primo posto sul traguardo di questa sesta corsa a Capannelle Al secondo il fuggitivo Pietro il Grande Mentre per il terzo vedete filtrare lungo la corda Orse Aurelare con il numero 9 Che precede Nijambo Mentre per il terzo vedete filtrare lungo la corda Orse Aurelare con la corda Orse Aurelare con il numero 10 Grazie a tutti